Ciao a tutti, oggi vedremo come lavorare sul ritmo partita nel precampionato, più nel dettaglio vedremo come effettuare il lavoro con palla. Due sono a mio parere i presupposti principali a livello dilettantistico, in particolar modo quelle squadre che iniziano dopo far agosto, quindi hanno poco tempo per preparare i primi match ufficiali della stagione. Il primo punto è la modellazione principale del carico di lavoro con lavori a secchi. Cosa vuol dire? Vuol dire che saranno i lavori a secco, che sono quelli che mi permettono di avere un carico di lavoro certo rispetto al lavoro con palla, ad aumentare gradualmente l'intensità e il volume. Tutti sappiamo che con palla è più difficile, nei lavori con palla, cercare di capire qual è l'intensità che viene raggiunta nell'esercitazione, non solo quello, ma è difficile anche capire la differenza tra atleta e atleta. Con i lavori a secco sono più sicuro, se faccio tot sprint in salita, tot allunghi in salita, se faccio tot minuti di fatta, sono sicuro che tutti faranno quello. Quindi la modellazione principale del carico di lavoro, a mio parere in questo periodo in particolar modo per quelle squadre che iniziano dopo far agosto, è importante che venga fatto senza palla. È chiaro che poi il lavoro con palla è comunque importante e a mio parere in questo caso deve essere abbalsa intensità, vedremo poi come, è dedicata prevalentemente ai principi di gioco. Quindi se io lavoro, se io modulo attentamente i lavori a secco incrementando il giusto carico di lavoro, alternando comunque giornate di carico e scarico, avrò un incremento della condizione certa e lavorando in maniera controllata. D'altro canto poi userò i lavori con palla per l'apprendimento dei principi di gioco. Questo è il modello che si usa di solito durante l'anno, quindi non è da tenere in considerazione, però è giusto saperlo. Cosa vuol dire? Che se io voglio incrementare il ritmo partita, la base da cui devo partire, la base della piramide da cui devo partire è una base aerobica sicura, fatta ovviamente con un lavoro a secco, quindi con cambi di direzione, variazione di intensità e tratti di velocità. Questo non è sufficiente, la base aerobica sicura, per avere la certezza che poi in partita giocheranno ad alta intensità, perché sarà poi solo inserendo gli small side games o comunque tutte quelle situazioni di gioco con pochi giocatori che permettono al giocatore di rimanere con tanto tempo con la testa nel gioco. Questo permette ovviamente di sviluppare un'attitudine non solo fisica ma anche psicofisica ad alta intensità, perché mi abituo a stare non solo a correre tanto, perché nei small side games fondamentalmente ci sono pochi giocatori, quindi non posso estranearmi dal gioco, ma anche rimanere sempre concentrato. Poi successivamente il passo, la ciliegina sulla torta ovviamente sono i large side games, cioè quei camp, quelle strutture esercitative in cui in partita tema si gioca tutti insieme. In questo caso è più facile trasferire l'attitudine in un contesto di gioco più specifico, tutti sappiamo che nel small side games non replico tutte le situazioni delle partite, i lanci lunghi, i lavori difensivi in particolar modo, gli aspetti difensivi, lavoro in particolar modo sul possesso palla, cioè su quelle situazioni di metà campo, lavorando invece con i large side games, cioè campi in dimensioni un po' più grandi e tutti insieme trasferisco l'attitudine in un contesto ancora più pratico, ma prima devo aver fatto questo, il lavoro di base aerobic sicura è di small side games. Questo è il modello che si usa diciamo durante l'anno, quando i giocatori hanno raggiunto una condizione di forma sufficiente. Questo invece è quello che abbiamo appena visto, è il lavoro a mio parere idari per campionato, cioè una durazione principale del carico di lavoro a secco, quindi incremento graduale, volume e intensità alternando giorni di carico e di scarico, oppure fasi di carico e di scarico, e fare comunque lavori di palla orientati all'apprendimento dei principi di gioco, che non vuol dire fare degli 11 contro 0 dei lavori tecnici, vuol dire fare delle partite da te, ma che non vadano oltre una determinata intensità. Poi vedremo alcuni esempi. Qui rimanendo un attimo sulla parte a secco, specifico come considero io di solito i lavori aerobici di due tipi, o parametrici o sensazione. Poi, ripeto, in descrizione trovate un link con un articolo in cui spiega tutto in maniera molto più dettagliata, sia la parte a secco che è la parte, diciamo, con palla. Qui vedremo invece, in questo video, vedremo solo la parte con palla. I elementi parametrici che si riferiscono a percorrere distanze a navetto lineare in un determinato minutaggio, periodo di tempo, oppure quelle sensazioni come fatle che determinano una maggior tolleranza allo sforzo perché sono gestiti soggettivamente e quindi mi permettono di non sovraccaricare il giocatore. I parametrici mi permettono di avere la certezza che i giocatori facciano quel determinato carico di lavoro, mentre quelle sensazioni mi permettono di non esagerare. Utilizzando insieme questi due tipi di carichi di lavoro avrò la maggior certezza di avere un'efficacia del mio carico di lavoro aerobico. Questo è un esempio banalissimo di un approccio iniziato dopo far agosto. Questo invece è il lavoro di tipo neuromuscolare che va abbinato ovviamente a quello aerobico in cui i vari lavori allenanti hanno vario impatto sulle varie variabili del calcio, la prevenzione di fortuna e la rapidità e la velocità. Ma andiamo ora a vedere come devono essere fatti i lavori con palla, cioè le parti a tema, cioè escluda qua i lavori tecnici, l'11 contro 0, tutti quei lavori in cui si lavora senza la situazione. Incremento minimo del carico nelle prime due settimane. Abbiamo detto che il carico deve essere gestito prevalentemente dal lavoro a secco, quindi quello con palla deve avere un incremento minimo del carico e non essere particolarmente efficace. Apprendimento dei principi di gioco. Quali sono i principi di gioco? Qui faccio vedere degli esempi. La fase offensiva può essere la costruzione del basso, lo sviluppo e la finalizzazione. Per quanto riguarda la fase difensiva, il pressing organizzato, i movimenti della linea difensiva e le abilità specifiche di difensore. Per quanto riguarda la transizione difensiva, la riconquista immediata della palla, oppure la copertura protezione della porta. È chiaro che se io perdo palla in attacco, scusate la banalità, è più facile riconquistare la palla con un pressing anche disorganizzato. Mentre se io la perdo in zone più delicate del campo, come essere a metà campo, può essere magari più efficace e ricorre a una copertura protezione della porta in un primo momento, soprattutto nella linea difensiva. Per quanto riguarda la transizione offensiva, cioè quando guadagno palla, quando non ho palle e poi passo in fase offensiva, può esserci un riattacco immediato, soprattutto se recupero palla nella metà campo offensiva e un consolidamento, ad esempio, pullendo la palla, come si suol dire, se sono magari nella mia metà campo. Quindi questo è l'apprendimento dei principi di gioco. Come dice, c'è tanto da fare con palla, c'è tantissimo da fare con palla. A tal proposito consiglio il libro di Giuseppe Rauso, adesso non mi ricordo il nome, comunque lo trovate nell'articolo in descrizione, è un libro molto bello, che proprio parla in maniera didattica di tutte queste quattro fasi e per ogni variabile di queste quattro fasi fa vedere almeno uno o due esercitazioni specifiche sotto forma di partita a tema o comunque giochi di situazione. Quindi è molto interessante questo libro perché non solo gli spiega bene in maniera abbastanza semplice, ma soprattutto dopo la spiegazione fa vedere subito qualche lavoro a tema proprio per allenare tutti questi principi di gioco. L'altissima intensità, l'abbiamo detto, l'intensità vi va calcolata prevalentemente con il lavoro a secco, campi dimensioni di 120 mq per giocatore fino al massimo di 150 mq per giocatore. Questi sono i consigli di Andrea Licciardi, un esperto sull'argomento giocando tutti insieme, in maniera tale che tutti possano apprendere i determinati principi insieme. L'inserimento degli small set game solo successivamente, quindi abbiamo visto sopra come gli small set game sono un elemento chiave per trasferire l'abilità costruita a secco all'abilità con palla, però sono molto impegnativi anche dal punto di vista neuromuscolare, quindi sono da evitare a mio parere nelle prime due settimane o perlomeno fatti nelle condizioni canoniche, poi possono essere fatti ad esempio con pause più lunghe, con dimensioni più piccole e quindi magari in questi casi possono centrare. Però gli small set game classici che sviluppano dell'alta intensità sia dal punto di vista metabolico che neuromuscolare sono da evitare a mio parere nelle prime due settimane, di introdurre solo gradualmente dalla terza in avanti. I campi più larghi che lunghi, perché la lunghezza del campo determina l'intensità soprattutto della velocità dei giocatori che sviluppano in campo, la richiesta di velocità giocando su un campo largo do più tempo tra virgolette a ragionare sulle situazioni di gioco e mantengo l'intensità più bassa, cosa che è la priorità nelle prime due settimane di preparazione. I principi di gioco li abbiamo visti prima, qui vediamo solo a scopo informativo quali sono le variabili principali riconosciute in bibliografia internazionale che definiscono l'intensità. Tutti sappiamo che aumentando le indicazioni o l'incitamento aumentano i parametri, aumentando la dimensione aumenta la potenza media di tratti ad alta velocità, viceversa la riduzione delle dimensioni che invece aumenta il numero di cambi di direzione, la richiesta di ridurre i tocchi della palla aumenta la potenza media, mentre la ripetitività delle sedute o delle varianti, quindi la monotonia, abbassa tutti i parametri. Conoscere questi aspetti è molto importante nella preparazione perché mi permette magari di evitare tutte quelle situazioni in cui l'intensità rischia di diventare troppo elevata, quindi magari non metto la riduzione dei tocchi di palla, se sto giocando già su un campo di 150 metri quadri per giocatore, posso mettere ad esempio la riduzione dei tocchi di palla se sto giocando su dei campi più piccoli, o perlomeno non nei primi giorni. Non aumento le dimensioni del campo troppo nei primi giorni di preparazione per il campionato, scusate, proprio per evitare che la potenza e i tratti ad alta velocità diventano eccessivi, non che non siano da fare, ma questo a mio parere è giusto farli con il lavoro a secco in maniera tale che io possa farli in maniera controllata e ben dosata. Qui sono altri suggerimenti per l'intensità che vengono soprattutto, questi della mia esperienza, questi vengono più che altro dalla bibliografia internazionale, questa è la mia esperienza. Palla sempre disponibile, cosa vuol dire? Se quando in un lavoro a tema la palla esce lateralmente, io faccio farla rimessa, anche se la palla esce vicino alla linea laterale, anche se ho il bordo, la recensione vicino alla laterale, ci sarà una riduzione dell'intensità in quel momento, perché la palla esce, il giocatore deve prendere la palla in mano, mette la palla in posizione, guarda i compagni liberi. Se invece io do la palla subito, io come allenatore o lo staff, do la palla subito appena la palla esce, è chiaro che mantengo più alta l'intensità. Non solo, se io do vicino alla palla dove è uscita, l'intensità rimarrà più o meno la stessa, se invece la do molto lontano, i giocatori dovranno tutti spostarsi e l'intensità dell'esercitazione aumenta. Quindi io devo sapere queste cose quando sono in preparazione, magari lascio farle rimesse, non do palla sempre disponibile. Oppure il gol valido solo se tutti i giocatori sono oltre al metà campo. Se io faccio, dopo vedremo degli esempi, dei campi abbastanza lunghi e metto questa regola, è evidente che l'intensità diventa molto elevata, soprattutto la velocità. Di conseguenza devo evitare queste situazioni nelle prime due settimane, poi posso incrementarle gradualmente. Un'altra situazione come l'intensità è il gol valido solo dopo cross, o altra azione tecnica specifica, poi anche qui vedremo un esempio. Modulare le squadre in inferiorità e superiorità numerica. Se io ho 16 giocatori, una cosa è fare un 8 contro 8, una cosa è fare un 10 contro 6. Sono sempre 16 giocatori, però un 10 contro 6, è chiaro che chi è in 6 deve correre molto di più, e chi no, 10 deve correre molto di meno. Anche se poi inverto, ci saranno dei picchi di carico molto elevati giocando in inferiorità e superiorità numerica, quindi è meglio evitare, soprattutto inferiorità e superiorità di due giocatori, alla volta, tipo un 8 contro 6, un 10 contro 6, un 8 contro 7 e ci sta, se i giocatori sono dispari ci mancherebbe. E giocare su campi più lunghi che larghi, al contrario di quello che vi ho detto prima, se i campi sono larghi l'intensità si abbassa e anche il gioco si facilita dal punto di vista tecnico e tattico. Se i campi sono lunghi più che larghi, l'intensità del gioco è maggiore e il gioco diventa che più difficile. Adesso vediamo degli esempi di esercitazioni che modulando le loro caratteristiche si può appunto agire sull'intensità e quindi andando incontro alle necessità della preparazione o anche delle fasi successive. Questo è un esercizio proposto dal mister Bacchini con cui lavoravo, è un bellissimo esercizio a mio parere perché ha tanti spunti, è molto semplice. I rossi devono fare gol, i gialli devono difendere. Sotto la linea dei cinesini i gialli non possono venire a prendere la palla, quindi si crea una sorta di situazioni di squadre corte, quindi il carico non diventa molto eccessivo, il campo è più largo che lungo, quindi proprio vado incontro alla necessità della preparazione per il campionato. I gialli non possono pressare troppo, non possono pressare sotto la riga, sotto la riga gialla, rossa, scusa, di cinesini rosso, quindi anche qui l'intensità non diventa molto elevata. Però qual è lo scopo dei giocatori gialli? Non è solo difendere la porta, ma portare la palla in guida o tramite un passaggio sotto la linea dei cinesini. Se questo accade, i gialli dovranno fare un numero di determinati passaggi tipo 5, durante i quali si invertirà la situazione, quindi i gialli diventeranno attaccanti e i rossi dovranno difendere. Avete capito? Cioè chi attacca deve fare gol, si gioca una partita normale, chi attacca deve fare gol, chi difende invece deve portare la palla sotto la linea dei cinesini e se ci riesce si invertono i ruoli, però prima di invertirli devono esserci 5 passaggi, sempre sotto la zona dei cinesini, da parte dei giocatori gialli o comunque da parte dei giocatori che difendono. Perché metto 5 passaggi? Perché in questo modo si hanno nel tempo le due squadre di riposizionarsi. Ovviamente in questo modo si possono lavorare su tanti principi di giochi, il movimento interlinea difensiva, il pressing organizzato. Ad esempio il pressing organizzato è molto dispendioso dal punto di vista fisico, però giocando su un campo più corto che stretto è già più facile dal punto di vista fisico e di conseguenza sarà più facile poi apprenderlo. Spero di essere ispirato bene. Un'altra cosa è anche per quanto riguarda in questo caso la fase di difesa, la costruzione dal basso. Qui ho una pressione molto elevata e la costruzione dal basso. Gialli farà molta fatica a costruire dal basso perché i rossi sono già tutti qua e quindi andrò ad allenare a costruzione dal basso senza dover fare intensità troppo elevate. Poi si può lavorare su tutti i principi di gioco in questa esercitazione. Perché mi piace molto? Perché modulando la distanza della linea rossa di cinesini, cioè dove la squadra difesa non può entrare a rubare palla, può entrare solo per guidare la palla o per ricevere un passaggio. Modulando la distanza tra questa linea e la linea di porta si modula l'intensità dell'esercitazione. Quindi magari la prima volta o per determinati principi di gioco, come può essere la costruzione del basso, terrò la linea in questo punto. Se poi gradualmente, soprattutto nella seconda settimana, voglio aumentare un po' l'intensità, voglio lavorare su di principi che richiedono maggiori spazi, potrò allontanare la riga di cinesi rossi dalla linea di fondo campo. Quindi questa esercitazione mi pare molto interessante, anche multilaterale, cioè serve per molti contesti. Questa è un'altra esercitazione, ad esempio, a bassa intensità, però per una fase offensiva che ritengo molto importante, che è la finalizzazione dopo cross. Qui si gioca un 6 contro 6 con due sponde, escusi i portieri ovviamente. Le sponde ovviamente giocano a due tocchi e non possono essere disturbate dagli avversari. Le sponde, come vedete, sono in zona offensiva e di conseguenza si può mettere la regola che il gol vale 3 dopo il cross della sponda. Questa non è, sembra un'esercitazione semplice, ma non lo è, perché centralmente è difficile entrare, diciamo, a fare gol perché il campo è stretto. Si tendrà quindi a sfruttare molto le vie esterne e si creeranno molti continui cambi di gioco, non solo cambi di gioco, ma anche momenti di transizione, perché ricercare subito la sponda che rimane stabile fuori sarà molto semplice e quindi creerà un aumento abbastanza evidente dell'intensità. Chiaramente su un campo così corto l'aumento dell'intensità sarà un po' più basso, se voglio ancora farlo più bassa all'intensità posso mettere la porta qua, in questo modo che diventerà molto poco, gli spazi saranno molto più piccoli, ma comunque si manterrà una certa intensità. Si lavora appunto sul principio, probabilmente della transizione offensiva, vediamo quali principi si può lavorare, la transizione offensiva del riattacco immediato, piuttosto che del consolidamento, perché è più facile in questo caso il riattacco immediato, perché c'è i giocatori liberi sulle sponde e quindi si possono lavorare su certi valori. Volendo poi dopo due settimane incrementare il carico dell'or si può fare un esercizio di azione del genere, in cui il campo è un po' più lungo, qui ci sono le sponde dinamiche, cosa vuol dire? Che non ci sono le sponde inizialmente, ma ci si può andare solo dopo tot passaggi, i rossi sono i jolly, quindi faciliteranno il senso del possesso palla e dopo quattro passaggi della squadra in possesso, due giocatori potranno andare, uno sulla sponda destra e uno sulla sponda sinistra, indisturbata, e due tocchi e giocando a due tocchi. Non è detto che poi debbano crossarla, però permette ad esempio di sfruttare il gioco laterale, questa esercitazione. La linea rossa l'ho messa ad esempio, il gol valido solo se tutti i giocatori sono andati a metà campo. È chiaro che se utilizzo tutte le regole che ho detto, questa esercitazione diventa molto intensa, però se elimino il fatto di essere tutti oltre a metà campo dopo poter fare gol, se ad esempio metto che i passaggi devono essere 7 o 8 prima di poter sfruttare le sponde, piuttosto che 3-4, ovviamente diventa un'esercitazione meno impegnativa, con intensità e soprattutto velocità migliori, magari più adatta per il precampionato. Bene, siamo numerati in fondo, ripeto, in descrizione trovate l'articolo in cui parlo anche sia di questo aspetto che anche quello della parte senza palla, quindi la modulazione del carico a secco, non solo delle parti di palla che ho visto qua. Ci sono poi altri, ulteriori link per approfondire, libri e cose varie. Consiglio soprattutto quello di Giuseppe Arauso, quello dei principi di gioco, molto interessante, anche per chi è preparatore atletico, perché conoscere tutti questi principi è importantissimo anche per il proprietario atletico, anche in un contesto delitantistico, perché permette poi, una volta che si conoscono le variabili che determinano l'intensità, di trovare le esercitazioni giuste, sia dal punto di vista dell'intensità, io parlo ovviamente a campionato iniziato, quindi fine preparazione, esercitazioni che abbiano le giuste intensità, ma anche i giusti principi di gioco in funzione di quelli che sono gli obiettivi del mister o delle lacune dimostrate dal giocatore riguardante l'ultima partita. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e se avete commenti e domande scrivete pure, se vi è piaciuto mettete mi piace e se vi va iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!